Musica Amici sportivi alla visione, immagini dal campo sportivo posto di Prato-la-Serra, quinta giornata del campionato nazionale Under-16 riservato alle società di Serie A e Serie B sono sul rettangolo di gioco i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti della Ternana. Tutto pronto per l'inizio di questo match che vede l'Avellino in completa classica tenuta rosso-verde per la Ternana. Padroni di casa che nel corso di questo primo tempo, che durerà 40 minuti, attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Ultime formalità di rito per il direttore di gara, che calcio d'inizio sarà battuto dalla Ternana a partiti proprio in questo momento. Ecco Raggi per gli Umbri, Kubai, l'azione di disturbo di Valentino, rimessa laterale per la Ternana. Quando il match è iniziato da 20 secondi, addirittura con un foglio di carta in campo. Ecco Raggi con le mani, ancora Raggi, ha provato la conclusione volante Alessio Di Bari, terminato in posizione di fuori gioco. Si ripartirà da un calcio di punizione per l'Avellino. Avanza la squadra in maglia bianca, va giù il numero 10 Ferraro, altro calcio di punizione per i campani. Farinelli, il capitano bianco-verde, Sagnia, Fecchione, sbaglia la manovra l'Avellino. Non riesce però ad approfittare nella Ternana. Intervento pericoloso di Vergine Pezzanera, riesce a far su il pallone. Ha rischiato il numero 5 Ternano, che riceve nuovamente il pallone dal suo portiere. Riparta in avanti il lancio per Di Bari. Per Alessio Di Bari, sono due i Di Bari in campo. Tommaso, maglia numero 3, Alessio, maglia numero 10. Rimessa con le mani per l'Avellino, sarà Pastina con le mani. Palla per Valentino, che si libera con agilità dell'avversario. Ora Stranese, ancora Pastina, palla indietro per Pizzella. L'appoggio da allungare per Gargaro, vecchione di testa, di testa pure Tommaso Di Bari, palla in faro laterale. Guadagna metri la squadra della campana, quando il match è iniziato da due minuti. Ancora l'Avellino. La sfera non perviene a Stranese. Il break Ternano. Lo scatto di Kubai colto leggermente. In questo tempo, la Pastina, la conclusione di Kubai. Si distende sul primo palo Pizzella e Deviant Corner, Ternana pericolosa, al secondo minuto del primo tempo. Il lancio di Cesmiak, che ha tagliato a fette la retroguardia bianco-verde. Poi Kubai si è involato. È entrato in aria di destro, ha provato a beffare Pizzella, che non si è lasciato sorprendere. Devianto il palone in corner, intanto dall'angolo va a colpire Cesmiak. Conclusione a fronte alta. Inzuccata sbilenca del numero 6, Ternano. Riparte l'Avellino. Con Sannia. Appoggio per Pastina. Dunque possiamo già notare il tentativo di Kubai al secondo minuto di gioco. L'intervento di Pizzella, che sul primo palo si è disteso e è deviato in calcio d'angolo. Ora ancora Raggi. Ternana, che sembra aver preso in mano le redini del gioco. Il dribblingabile di Istrianese. Ecco Farinelli. In cui il palone vecchione riesce a mantenere il palone in campo, ma favorisce l'intervento di Mercuri. E ne è fermato Mercuri. Ancora Ternana. Alla fine si riparte da Pezza Nera. I calciatori in distinta sono tutti nati nell'anno 2001. Gargaro. Strianese. Pastina rischia il dribbling su Kubai. Farinelli. Ferraro aveva provato a verticalizzare. Tentativo fallito. Tanto ci sono problemi per la paudice. le scuse di Di Giorgio all'indirizzo dell'avversario. Scontro fortuito tra i due. Prova a ripartire da vellino di Dario Locco. Sbaglia Valentino. Kubai. Non è riuscito a lanciare. Alessio Di Bari. Non c'è stato dialogo tra i due. Il lancio di Gargaro. Va giù. Paudice. Il quale reclama il calcio di punizione. Di diverso avviso il direttore di gara. Lora al monte. Ecco Alessio Di Bari. Incespica sul pallone. E Caparbio. Il capitano Ternano. Ancora Alessio Di Bari. Portapalla. Sfera. Allontanata dall'aria biancoverde. Il break biancoverde con il numero 7. La Ronica. Ancora la Ronica. Allontana Vergine. Esce dal fuo di gioco Alessio Di Bari. Passina disturbato da Lora al monte. Calciatore di colore. Sannia. Ancora Sannia. Sannia. Ancora Ternana con Raggi. Fermato Raggi da Pastina. La palla è uscita però. Il numero 3 si è portato. Il pallone al di là della riga verticale. Rimessa con le mani ancora per la formazione Umbra. Stianese avanza. La zona di contropiede tentata da Lavellino. Ecco Ferraro. Il pallone non filtra. Farinelli. 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 Vergine. Ad allontanare il pallone. lo rincorre Sannia. E non Sannia come avevamo erroneamente detto in precedenza. Palla per Valentino. Ferraro. L'intervento di Tommaso Di Bari. Di Giorgio. Fallisce la ripartenza Ternana. Premessa laterale per Lavellino. Con le mani è pronto Vecchione. Sannia. Gargaro. Pastina. Non riesce nel passaggio al compagno Pastina. Insiste Cubai. Ancora Cubai. La conclusione è murata da Alessio Di Bari. Logo al monte. Petrini. La respinta di Vecchione. Ed ora Ferraro. Un po' scoperta la Ternana. C'è Stianese per Lavellino. Portapalla. Valentino il capitano. Il suo passaggio è completamente errato. Ti scusa con i compagni. Il calciatore è bianco-verde. E calcio di punizione per Lavellino. Sagna. La Ronica perde palla. Logo al monte. Viene trattenuto regolarmente Mercuri. Richiamo verbale per il calciatore avellinese. E punizione per la Ternana. Sarà Gesmiak. Abbattere il piazzato. Si avvicina Logo al monte. Però almeno accenna a farlo. e attenta la retroguardia è bianco-verde. Logo al monte. Poi dalla distanza ci prova Petrini. Palla abbondatamente a lato. con questione subitanea del numero 4 Umbro. Ora bisogna ripetere il tutto le spiegazioni del direttore di cara all'indirizzo degli avellinesi che hanno commesso un'infrazione nel rimettere in moto il pallone. Ancora Lavellino. Palla per Laronica. L'allungo la fila di corpa di Laronica. Calcio di punizione. Trattenuto vistosamente. Il numero 7 Campano. Calcio di punizione per Lavellino. Calcio di punizione per Lavellino. Ecco Valentino. Sale sulla sinistra. Pastina. Che preferisce servire all'indietro Gargaro. Sagna. Laronica. Il fraseggio bianco-verde. Gargaro. Pastina. Prova a prendere quota la formazione di Dario Locco. Ex centrocampista nell'Avelino ai tempi di Ammazza l'Orso. Di testa Tommaso Ribari. Pallone resta in campo. Insiste Vecchione. Il cross di Vecchione. Di testa la gira. Strianese. Palla alta. Prima iniziativa importante della scuola di casa. La risposta dell'Avelino all'occasione capitata ai Ternani dopo due minuti di gioco. con Kubai. Qui invece la gira di testa di Strianese in piena aria. E palla alta. Strianese che ha raccolto il traversone corto di Vecchione. Evita il fuorigioco. Il numero nove lo dice. ma non evita però che la palla furiesca. Rimessa laterale per la Ternana allenata da Vincenzo Corradetti. Con le mani raggi. si lotta rimessa ancora Umbra non cambia il battitore sempre raggi. Undicesimo del primo tempo 0 a 0 un'occasione per parte ora riparte l'Avelino con il capitano Farinelli che si allunga il pallone un po' ingenuamente Petrini glielo va a soffiare rimedia per l'Avelino il numero 11 stranese ancora stranese Cesmi il rimpallo che per poco non favorisce la Ronica alla fine pezza nera è chiamato al rilancio e scavalcavo dal pallone Sannia Sannia ancora Mercuri che entra in aria la conclusione vincente di Alessio Di Bari per il vantaggio della Ternana al dodicesimo puntuale il numero 10 Ternano raccoglie l'assist di Mercuri che è entrato in aria dal limite è riuscito a servire la corrente Alessio Di Bari che di sinistro ha freddato Pizzella per il vantaggio Ternano all'undicesimo del primo tempo dunque Avellino 0 Ternana 1 ha sbloccato il capitano Alessio Di Bari la cavalcata di Mercuri che dalla linea di fondo è riuscito a servire la corrente Alessio Di Bari praticamente un calcio di rigore in movimento quello del numero 10 Ternano palla spedita sotto la traversa conclusione imparabile per il portiere Pizzella che nulla ha potuto stavolta e dunque la Ternana è in vantaggio viene rotto l'equilibrio nel risultato qui a Prato La Sella la spinta di Gargaro ai danni della torre del gol Rosso Verde calcio di punizione per la formazione ospite al tredicesimo del primo tempo sul punto di battuta a Logalmonte due uomini in barriera sistemati da Pizzella la battuta di Logalmonte palla bassa la sera che si infrange nella barriera velinese vedremo quale sarà l'entità della reazione bianco-verde Ferraro messo giù in maniera rude fallo di Cesmiak richiamo verbale per il numero 6 Ternano è molto probabile che la prossima scorrettezza scatti automaticamente l'ammunizione la battuta di Valentino che sbaglia ha l'impressione di aver subito il contro al colpo psicologico della rete subita Lavellino prova ad approfittare nella Ternana Cisai palla leggermente lunga per Logalmonte Petrini cambia gioco per Tommaso Di Bari appoggio per Di Giorgio ancora Tommaso Di Bari è in posizione regolare Logalmonte che entra in area il numero 9 Ternano non riesce nell'ultimo dribbling non si lascia fregare Faginano a bocca il numero 4 che ora prova a lanciare Ferraro lotta Ferraro trattenuto vistosamente rimane in piedi Ferraro l'azione è capabile il numero 10 Bianco Verde libera l'area la Ternana con Vergine insiste Lavellino dalle retrovie con Stagna appoggia ancora per il numero 6 Bianco Verde il dialogo con Laronica palla per la Ternana con Tommaso Di Bari Cesmiak ancora Tommaso Di Bari il lancio da sotterra per il suo monimo Alessio Di Bari che si invola sulla sinistra viene affrontato da Stagna calcio di rigore calcio di rigore per la Ternana il direttore di gara ravvisato un fallo di mani da parte di Gargaro se non andiamo entrati errati calcio di rigore anzi no il fallo era di Gargaro diciamo bene Gargaro calcio di rigore per la Ternana al sedicesimo del primo tempo Alessio Di Bari se l'è procurato il penalty e dovrava anche a calciare dal dischetto opportunità per la formazione Umba di portarsi sul 2 a 0 opportunità di siglare la doppietta per il capitano Ternano attende il fisco del direttore di gara parte di Bari la parata di Pizzella che salva l'avellino gli applausi del pubblico biancoverde la prudezza dell'estremo difensore biancoverde che ha neutralizzato il calcio di rigore di Alessio Di Bari si resta sull'1 a 0 per i Ternani ha salvato la propria porta Pizzella e sta in partita l'avellino l'uomo al monte il corner la presa dell'estremo difensore biancoverde che vive dunque 3 minuti di gloria dunque la Ternana ha fallito un calcio di rigore al minuto numero 16 la formazione di Corradetti resta comunque in vantaggio per una rete a 0 ora l'avellino non riesce ad incunearsi in area vecchione l'ora al monte padrone filtra esce dalla propria area Pizzella ad allontanare ora stranese Ferraro il lancio per il numero 7 la Ronica che sigla il gol del pari al 17esimo quante emozioni a Prato la Serra l'avellino pareggia l'avellino pareggia con la Ronica il pallonetto a Beffara in uscita a pezza nera siamo sull'1-1 si è passati dal possibile 2-0 Ternano per via del rigore sbagliato da Alessio Di Bari al pareggio avellinese con la Ronica dunque 1-1 a Prato la Serra fuochi pirotecnici in questi primi minuti di gioco siamo al 18esimo del primo tempo 1-1 dunque ha pareggiato per l'avellino il numero 7 la Ronica il vantaggio Ternano con Alessio Di Bari all'undicesimo lo stesso Alessio Di Bari ha fallito il calcio di rigore che aveva portato Iumbri sul 2-0 e poi l'avellino è riuscito a pervenire al pareggio con la Ronica bravo ad evitare la trappola del fuorigioco e a superare con un abile pallonetto in uscita pezza nera rimessa laterale per la formazione ospite palla allontanata Cesmiac pastina ancora pastina ha rischiato Vergine si messa laterale per l'avellino che ha trovato ripetiamo la parità con la Ronica al diciassettesimo ancora i biancoverdi con Raudice con Alessio Di Bari Gargaro si invola Sganese e in aglia Sganese Ferraro ci prova la conclusione di Faginelli Murata insiste l'avellino con il numero 4 Faginelli guadagna un tiro dalla bandierina com'è cambiato il match dal punto di vista psicologico ecco il tiro dalla bandierina la palla che attraversa tutta l'area di rigore la rincorre Vecchione non riesce a costare Vecchione ha allontanato la sfera infraro laterale Tommaso Di Bari Averlino che resta in zona d'attacco Cesmiac il paleggio di testa perde pala ne approfitta Ferraro anche il vento a disturbare l'azione dei 22 in campo provato la finezza Alessio Di Bari sinora match agrodolce per lui ha avuto il merito di portare in vantaggio la Ternana ma il demerito di fallire il penalty del possibile 2 a 0 per i suoi Ternani puniti dal pareggio quasi subitaneo dell'Avellinese Laronica e ora Pizzella sbaglia il disimpegno Pizzella riparte Lavellino con Vecchione che ha provato la sortita ancora Irpini in avanti ha provato il colpo di tacco il numero 9 laudice una serie di batti e ribatti una fine Cesmiak poi Tommaso Di Bari lo scatto di Sagna in vantaggio su Alessio Di Bari rimessa per la Ternana che si riaffaccia nella metà campo avversaria trascorre il tempo 22 siamo a poco più di metà frazione 1 a 1 Travellino e Ternana vantaggio Umbro con Alessio Di Bari il pareggio di Laronica nel mezzo il penalty fallito sull'1 a 0 per i Ternani dallo stesso Alessio Di Bari bravo Pizzella a tuffarsi alla sua destra e deviare il pallone in corner ecco l'Avellino il rilancio di Gargaro lo scatto di laudice 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 alla fine pezza nera riesce proprio il caso di dirlo a metterci una pezza ed anticipare in uscita l'attaccante Biancoverde ora Petrini palla per Raggi sulla destra il controllo di destra di Raggi la Rolmonte sguscia via benissimo allora la Rolmonte la posizione defilata passaggio potente una conclusione a metà tra il passaggio e la conclusione verso lo specchio della porta torna a farsi pericolosa la Ternana Logalmonte ha disorientato il versante sinistro della difesa avellinese ecco Logalmonte in azione Alessio Di Bari il dialogo con Logalmonte che non va a buon fine riparte l'Avellino che testa la tela avanzata del numero tre Pastina porta palla Pastina è in posizione regolare Audice viene fermato Audice lancia in avanti palla all'indietro per Gargaro ecco Pizzella Vecchione Sagna Valentino in cuore il pallone Gargaro adesso Pastina ancora Gargaro il dialogo il dialogo tra i due indeciso sul da farsi Gargaro si avvicinano i ternani Cestrianese appoggio sulla destra a cambiare gioco per Vecchione si è allungato il pallone Vecchione ha comunque guadagnato una rimessa laterale è lo stesso e lo stesso numero due a battere Farinella Sagna rischia Sagna ora Valentino inserimento in posizione regolare di Laronica entra in aria prova a cambiare piede Laronica in suo soccorso è giunto Ferraro che però non è riuscito a far suo il pallone il disimpegno dei ternani svirigola Scesmiak Strianese non è impeccabile nell'avventarsi sulla sfera la rimessa laterale è comunque in favore dei padroni di casa temporeggiano gli Irpini palla per Farinelli anticipato Ferraro lancio in avanti lo scatto di Alessio di Bari a sorprendere i difensori ottende Sagna la palla è in aria è riuscito a crossare il capitano Ternano è stato anticipato loro al monte il break bianco verde con Ferraro che ha un po' di campo avanti a sé avanza Ferraro è in posizione regolare numero 7 Laronica palla in aria il colpo di tacco tentato da Gaudice alla fine è pezza nera riesce a cavarsela ha provato il tocco alla Bettega Gaudice non ha preferito la stoccata ha tentato il colpo ad effetto palla che ha attraversato tutta l'aria piccola poi pezza nera è riuscito ad arpionare il pallone ad avventarsi sulla sfera e a far sì che la Ternana si salvasse in questa circostanza l'ora al monte ancora gli Umbri Petrini Raggi il dribbling di Raggi a seminare Stanese che però non lo molla perde palla Raggi c'è un po' di confusione movimento di Gaudice l'ora al monte adesso di Bari Kubai Cesmiak ancora Cesmiak che guadagna metri palla sulla sinistra per Tommaso di Bari posizione arretrata l'ora al monte l'ora Cesmiak preferisce ragionare la Ternana vergine ora l'ora al monte posizione di attesa di Avellino ottimo il lancio per Raggi sulla destra il cross del numero 2 Ternano palla troppo lunga per Mercuri perlomeno in un primo momento poi riesce a recuperare la sfera lotta ancora Mercuri l'ora al monte esterno di destro palla troppo sul portiere nessun problema per Pizzella che invita i suoi ad avanzare il rilancio dell'estremo difensore bianco-verde ma la sfera è preda dei Ternani poi non riesce nel controllo Tommaso di Bari ha fallito la ripartenza Tommaso di Bari si è goffamento ha allungato il pallone lo scatto di Strianese defilato palla sul fondo nulla di fatto in questa circostanza ci sarà semplice rimessa per Pezzanera riparte la Ternana con Cesmiak gli si fa incontro Petrini Cesmiak guarda in avanti ragiona numero 6 Ternano lancio per Tommaso di Bari il duello con Vecchione va giù il numero tre Umbro calcio di punizione per gli ospiti è perplesso Vecchione non è d'accordo con il direttore di gara che ha accordato un calcio di punizione alla Ternana quando siamo giunti al trentesimo del primo tempo dieci minuti poco più all'intervallo parità qui a Pratolaserra 1 a 1 Traverino e Ternana match valido per la quinta giornata del campionato nazionale Under 16 riservato alle società partecipanti dei campionati di serie A e di serie B si affrontano quest'oggi due squadre le cui rispettive prime squadre disputano il campionato cadetto Avellino e Ternana seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione c'è una buona opportunità per gli ospiti palla che salza a campanile il colpo di testa di Alessio Di Bari di testa anche Farinelli Avellino che rimane in trincea rimessa laterale per la Ternana con le mani salato Maso Di Bari a battere il pallone che scavalca Vecchione lotta Alessio Di Bari autore del momentaneo vantaggio Ternano con un gol al minuto numero 11 lo stesso numero 10 ripetiamo ha avuto l'opportunità di raddoppiare dal dischetto però ha fallito il tiro dagli 11 metri quando si era ancora sull'1-0 per la sua squadra poi è giunto il pareggio Biancoverde con la Ronica calcio di punizione ancora per la Ternana siamo proprio nei pressi dell'area di rigore Biancoverde e il trentunesimo altra opportunità per gli Umbri sarà allora al monte a battere il calcio di punizione dalla sinistra si avvicina anche Mercuri i due confabulano due uomini in barriera sistemati da Pizzella occhio a Cesmiak e a Kubai palone basso svirgola vecchione sarà calcio d'angolo per la Ternana Avellino che rimane arroccato in difesa sta premendo la squadra di Vincenzo Corradetti dalla bandierina allora al monte il direttore di gara interrompe il gioco evidentemente ha l'intenzione di redarguire i duellanti ce l'ha con i due numeri sei trattasi di Sagna per l'Avellino e Cesmiak per la Ternana ecco l'angolo battuto da Logalmonte la presa sicura di Pizzella Dominus dell'area piccola appoggio corto per Gargaro sbaglia Gargaro rimedia Valentino sbaglia pure lui Alessio Di Bari perde palla quanta confusione idee un po' annebbiate in questo frangente di match Ferraro a sbrogliare Strianese colto in controtempo la Ronica rincorre il pallone numero sette che non riesce però a mantenere il pallone in campo Tommaso di Bari con le mani riparte la Ternana viene fermata l'avanzata degli Umbri la serie di errori si da una parte che dall'altra Valentino ancora Valentino la conclusione di punta palla altissima pallone che termina addirittura nel podere che è a fianco all'impianto sportivo di Pato la Serra è messa dal fondo per la Ternana trentaquattresimo abbiamo assistito ad un piacevole primo tempo due reti un paio di occasione mancate un calcio di rigore fallito ecco la Ronica Farinelli Vecchione sbaglia Lavellino Alessio Di Bari lo scatto Vecchione lo insegue tiene palla Alessio Di Bari entra in aria alla fine a commettere fallo il capitano Ternano il quale allarga le braccia sconsolato non riesce a spiegarsi il perché il direttore di Carani abbia punito l'intervento calcio di punizione per Lavellino al trentacinquesimo minuto di gioco Pizzella è chiamato al rilancio alla battuta del calcio di punizione di testa svetta Ferrara nonostante sia il più biasso in quanto a statura occhio all'incursione di Paudice l'uscita di pezza nera rischiosissima fallo ai danni di Raggi ha rischiato il portiere Ternano anche se Audice si stava defilando calcio di punizione a beneficio degli Umbri con la battuta del piazzato scavalcato Gargaro Loramonte è in posizione irregolare Alessio Di Bari che va comunque alla conclusione tiraccio che colpisce la traversa abbiamo qualche dubbio su questa segnalazione a dire la verità certo l'assistente di destra del signor Pascarella è meglio piazzato rispetto a noi però l'impressione qui dalla tribuna che ci siano molti dubbi sulla decisione di alzare la bandierina il rimpallo occhio all'avellino non riesce l'audice ad approfittarne pezza nera non c'è il tuo topo l'audice è stato troppo tenero nel controllare il padrone troppo tenero nel contrasto con l'avversario Kubai avanza Kubai Logalmonte va giù Logalmonte Faginelli viene fermato Raggi di tacco Selve Vergine Cesmiak entra nella metà campo avversaria Tommaso Di Bari lo scatto di Di Giorgio ancora Tommaso Di Bari va alla cross palla al centro dell'aria c'è un rimpallo alla fine Pizzella si avventa sulla sfera e rilancia palla buona per l'audice avanza l'audice si incarta da solo l'attaccante avelinese Sargabbia mister Rocco pezza nera appoggia per Cesmiak Petrini che riceve palla ancora Petrini di testa legge bene la traiettoria del pallone vecchione vecchione parla di indietro per Pizzella Gargaro allungo per Pastina viene fuori con abilità Lavellino ottimo il fraseggio dei campani va giù Pastina sull'intervento irregolare di Kubai calcio di punizione per i biancoverdi ecco Valentino Sagna il lancio lungo di Sagna a cercare lo scatto di l'audice alle calcagne Cesmiak ancora l'audice porta palla Ferraro non riesce ad entrare in aria e ne è fermato all'atto dell'ingresso ecco il contropiede Umbro portato da Mercuri entra in aria Mercuri alla fine il rimpallo lo sfavorisce Pizzella fa su il pallone ancora la Ronica rimessa a biancoverde intervento in interdizione di Loga al Monte trentanovesimo al nostro cronometro un minuto alla fine del primo tempo non dovrebbe esserci molto recupero ecco l'audice Ternana con Cubai Alessio Di Bari il fallo di mano del capitano calcio di punizione per Lavellino calcio di punizione sarà Pizzella a battere non c'è tempo per farlo il duplice fischio dell'arbitro a decretare la sospensione delle ostilità si va a riposo con le squadre in parità 1-1 vantaggio Ternano all'undicesimo con Alessio Di Bari che al diciassettesimo ha fallito il calcio di vigore del possibile 2-0 poi il pareggio Avellinese con Laronica al diciottesimo a risentirci per il commento del secondo tempo Amici sportivi ancora immagini dall'impianto di Prato la Serra sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino Ternana match valido per la quinta giornata del campionato nazionale under 16 riservato alle società di serie A e di serie B il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 1-1 partiamo subito con la lettura delle distinte l'Avellino ha effettuato nel corso dell'intervallo due sostituzioni è entrato il numero 13 Caputo anche Caso ha fatto il suo ingresso in campo con la casacca numero 14 dovrebbe essere uscito nell'Avellino vecchione almeno questo possiamo appurarlo vedremo nel corso del match chi è stato sostituito tra le fila bianco-verde bianco-verdi non ci sono avvicendamenti invece tra le fila ternane il mister di Genzo Corradetti ha confermato l'undici di partenza e allora l'Avellino schieda pizzella tra i pali numero uno il numero due era vecchione sostituito da Caputo poi Passina maglia numero tre Farinelli numero quattro in campo forse Gargara è uscito maglia numero cinque dovrebbe essere lui il calciatore sostituito da da Caso poi numero sei Sagna numero sette Laronica numero otto Valentino numero nove Audice numero dieci Ferrara numero undici Strianese in panchina Romano Liguori Tortora Squillante Garofalo Noviello Sabatino signor Dario Rocco la ternana schieda pezza nera numero uno estremo difensore stiamo lo scatto di Loralmonte temporeggio Loralmonte il cross di Loralmonte parla sul secondo palo in cora la sfera Alessio Di Bari il capitano ternano l'appoggio per il suo monimo Tommaso Di Bari che appora la conclusione della distanza e palla sul fondo la distinta ternana pezza nera maia numero uno numero due Raggi numero tre Tommaso Di Bari numero quattro Petrini cinque Vergine sei Scesmi H7 Cubai 8 Di Giorgio 9 Loralmonte 10 Alessio Di Bari 11 Mercuri in panchina siedono Spadini Galliccia Panfilo Prudensi Pesce Francesconi Di Mei Alessandro Di Patrizzi Mario Di Patrizzi il tecnico il signor Vincenzo Corradetti Chiamato a dirigere il match Mattia Pascarella appartenente alla sezione di Nocera Inferiore è coadiuvato da Pasquale Russo e Angelo Angelillo entrambi appartenenti affiliati alla sezione di Nola il secondo tempo iniziato da 3 minuti sempre 1-1 qui a Pratolaserra nel corso del primo tempo la Ternana si era portata in vantaggio all'undicesimo con Alessio Di Bari il quale ha avuto l'opportunità al diciassettesimo di raddoppiare sul calcio di rigore ma ha fallito dai undici metri e poi Lavellino un minuto più tardi è pervenuto al pareggio con il numero 7 la Ronica che ha beffato Pezzanera in uscita con un pallonetto il lancio di Farinelli il corpo di testa di Strianese nessun problema per Pezzanera in pratica un passaggio all'indietro quello di Strianese che nel corso del primo tempo sullo 0-0 di testa ha avuto una buona opportunità con la fronte però ha spedito il pallone alto sulla trasversale l'opportunità anche per la Ternana sempre sullo 0-0 con Kubai che dalla destra ha impegnato Pizzella nella deviazione in corner Oravellino Campani che nel corso di questa ripresa attaccheranno dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi quarto della ripresa farlo laterale per la formazione padrona di casa con le mani il numero 13 Caputo di testa di testa Farinelli il lancio di Valentino il fallo di Rora al monte che resta anche contuso colpito forse anche al volto Rora al monte il direttore di gara va a sincerarsi nelle condizioni del calciatore di colore della Ternana che deve però lasciare il rettangolo di gioco per farsi soccorrere Ternana in dieci sui sviluppi di questo calcio di punizione sarà Valentino a battere il piazzato sistema pezza nera la propria retroguardia quinto rientra in campo l'ora al monte ritorna in undici la Ternana due uomini in barrega sistemati dall'estremo difensore Ternano si attende il fischio dell'arbitro ecco la battuta di Valentino palla in aria pallone filtra alla fine c'è chi messa dal fondo il tocco ultimo dovrebbe essere stato di Istrianese rimessa dal fondo per la Ternana ecco pezza nera riparte Raggi Cesmiak avanza il numero sei Ternano intervento di Caputo di testa rimessa con le mani di Tommaso di Bari palla di indietro per Cesmiak vergine lancio del numero cinque rosso verde palla che si perde in faro laterale va a caso con le mani Strianese stavolta la rimessa è Umbra Loralmonte non riesce nel rilancio di testa di Giorgio Strianese lotta il numero undici Campano è Caparbio e riesce da terra a servire un compagno lo scatto di Ferraro atterrato calcio di punizione per l'Avellino è sta terra dolorante Ferraro che viene aiutato sportivamente da rialzarsi dall'avversario opportunità per l'Avellino di Dario Rocco leggermente zoppicante Ferraro va a prendere posizione in aria opportunità per gli Irpini che vanno a caccia del ribaltone ecco la battuta del calcio piazzato del settimo della ripresa calcio di punizione palla in aria la sfida che termina lì si rifugia in corner di Giorgio lucido nel lo scaraventare il pallone oltre la riga di fondo pericoloso Lavellino la sfera che è rimasta sospesa nell'aria piccola ecco la battuta dell'angolo è uno schema bastina il cross in aria la girata di testa da parte del numero undici stranese e palla non lontanissimo dal palo sinistro della porta difesa da pezza nera si è staccato dal controllo stranese ha girato di testa la palla è rimasta bassa ma il numero undici non ha trovato lo specchio della porta Cesmiak Valentino resiste all'attacco di Petrioni loro al monte chiedeva la punizione Valentino adesso la Ternana con Kubai non lo molla il numero quattordici caso calcio d'angolo per gli Umbri c'è il capovolgimento di fronte ora dalla bandierina Logal Monte occhio ai centimetri dello stesso Kubai parte Logal Monte palla in aria anticipato Alessio di Bari nel bailam in aria di rigore rimessa ancora per la squadra di Vincenzo Corradetti che rimane in zona d'attacco nono del secondo tempo sempre parità 1-1 qui a Prato la Serra lanciato Ferraro avanza Ferraro strattonato irregolarmente dal numero 8 di Giorgio che viene anche ammonito giusto il provvedimento disciplinare all'indirizzo del centrocampista Rosso Verde che ha interrotto un'azione importante ma al di là dell'importanza dell'azione non puoi ovviamente abbracciare in stile reglistico l'avversario dunque calcio di punizione per l'Avellino al decimo della ripresa ricordiamo che i tempi durano 40 minuti per ciò che riguarda le gare dell'Under 16 ma anche dell'Under 17 35 minuti invece per l'Under 15 Mercuri Loral Monte sbaglia il controllo difensivo l'Avellino si incune Alessio di Bari e riporta in vantaggio la Ternana sempre all'undicesimo minuto di frazione gran palla in profondità all'indirizzo di Alessio di Bari beffata da dentro guardia il capitano Ternano ha bruciato sullo scatto i suoi difensori e con freddezza con calma olimpica ha battuto in uscita Pizzella per il 2 a 1 della Ternana dunque Umbri che tornano in vantaggio la doppietta di Alessio di Bari che scaccia anche i fantasmi del calcio di rigore sbagliato solo 1 a 0 ora deve nuovamente rincorrere l'Avellino di Rocco Sarattico dalla bandierina per i campani ancora Avellino Ferraro il cross di Ferraro il pareggio immediato anzi no viene segnalata la posizione di fuochi gioco di Istrianese c'è fuori gioco rete annullata al numero 11 Campano cambio anche per la Ternana esce il numero 9 L'Oralmonte e anche Kubai cambia quasi interamente il fronte d'attacco rosso-verde no L'Oralmonte resta in campo al suo posto esce Kubai entra in campo Prudensi c'è stato un errore nella segnalazione cartellonistica esce il 2 Raggi c'era stato un errore ecco non è colpa nostra nella segnalazione del calciatore da sostituire in campo anche Di Mei per la Ternana maia numero 18 dunque rete annullata l'Avellino al dodicesimo Vano il colpo di testa di Strianese a superare Pezzanera sarebbe stato l'immediato pareggio dell'Avellino ora Di Mei la lontana Sagna Cesmiak altri rimpalli il lancio di Daronica Petrini fa fuori Ferraro avanza Petrini riparte l'Avellino con Valentino ancora Valentino riesce a servire in qualche modo di punto a un compagno scavalcato Cesmiak ma Pezzanera fa buona guardia e si avventa sul pallone attento il portiere Ternani in uscita intanto ci sono problemi per un calciatore dell'Avellino chiede il cambio Rocco è pronto a fare il suo ingresso in campo Garofalo Garofalo in campo per l'Avellino probabilmente al posto del numero 8 Valentino che è ai bordi del campo a farsi medicare altro vicendamento tra le fila campane è il quindicesimo della seconda frazione di gioco Avellino 1 Ternana 2 la doppietta di Alessio Di Bari sta decidendo il match la doppietta del Ternano inframmezzata dalla rete di Laronica che aveva portato Avellino sull'1-1 una pastina lungo lancio di pastina impreciso parla direttamente in faio laterale i richiami di mister Rocco all'indirizzo del suo calciatore di testa di Giorgio pastina si messa con le mani in favore dei biancoverdi stranese rimessa per i campani un momento a caccia del pareggio il tocco di pastina rimessa laterale per la Ternana che ora ha l'obiettivo di condurre in porto il match che la vede avanti per due reti a uno Ferrara Farinelli Caputo lo scambio con Farinelli ancora Caputo subentrato all'inizio di presa a Vecchione il lancio di pastina caso c'è l'ora al monte per la Ternana intercetta caso ancora l'ora al monte ancora caso anticipato Ferrara si lotta Sagna altro lancio del numero 6 impreciso e raggiungibile per Strianese altri secondi che scorrono si accontenta della rimessa laterale la Ternana ora Petrini prova a rilanciare Ferrara ci mette il corpo altra rimessa per gli Umbri Farinelli caso rilancia in avanti altra rimessa con le mani in favore degli Umbri che hanno tutto l'interesse ad abbassare i ritmi non vogliono dare opportunità agli avversari ci riprova Lavellino ecco Raudice che entra in aria l'intervento provvidenziale di Cesmiak era pronto alla stoccata Ferrara il quale è stato anticipato di un soffio dall'avversario che ha evitato così i guai più seri altra rimessa non ci si allontana da quella fetta di campo Pastina ancora Pastina tiene palla la perde però Petrini lancio per Alessio Di Bari due euro in velocità con Stagni Alessio Di Bari si defila va alla conclusione rincorre il pallone il numero 11 Mercuri riesce anche a guadagnare una rimessa con le mani ancora Ternana Raudice Cesmiak Tommaso Di Bari rincorre il pallone Caputo non vuole perdere tempo Caputo Lavellino ha altri 20 minuti a disposizione per provare perlomeno a pareggiare questa partita Fatale ancora una volta per gli uomini di Rocco l'undicesimo minuto all'undicesimo Di Bari aveva colpito nel primo tempo ha colpito anche all'undicesimo della ripresa Prudensi mette in faro laterale rimessa per Lavellino allontana di Giorgio senza mezzi termini sempre rimessa laterale per i locali Caso all'incorsa di Baudice viene fermato gli avversari in maniera corretta lancio per Alessio Di Bari e in segra difficoltà Sagna non è riuscito il capitano Ternano a servire Di Mei Lavellino che manovra con Sagna a Zaratessa Sagna l'appoggio sulla destra per la Ronica autore del momentaneo 1-1 lottano il numero 3 Ternano Tommaso Di Bari è il 13 caputo alla fine il direttore di gara segna la rimessa laterale alla formazione rosso-verde con le mani Tommaso Di Bari pallone schizza ma alla fine Pizzella blocca il rilancio l'estremo difensore Irpino manca il pallone Prudensi tra le spalle però c'è Vergine che si avventura in un dribbling sull'avversario riesce ad allontanare il pallone ma c'è ancora Lavellino con Farinelli ad insistere ancora Vergine di testa Logalmonte guadagna una rimessa laterale guadagnando anche gli applausi del discreto rumore i tifosi Ternani a corsi in Irpinia prevede che all'opera l'Under 16 delle Fere sul primo palo ha bloccato Pizzella che va a rilancio Prudensi si accontenta della rimessa laterale tutte contingenze favorevoli alla Ternana ed avversi a Lavellino che è chiamata nuovamente a pareggiare perlomeno a pareggiare le sorti di questa partita Caputo il pallone non filtra Mercuri abile in pagreggio Mercuri viene fermato in maniera corretta dalla Ronica prova il dribbling la Ronica è fortunato va giù calcio di punizione per Lavellino fallo commesso da Tommaso di Bari Sagna batte il calcio di punizione deve rispettare la distanza Mercuri la battuta di Sagna l'uscita di Pezza Nera ventiquattresimo Cesmiak ha un po' di spazio può avanzare il giovane difensore Ternano Sagna Caputo il lancio di La Ronica anticipo di Prudensi ora Garofalo per Lavellino Caso Scanese non passa palleggio di Caso intervento ai limiti della regolarità di Scanese che si è visto annullare un gol di testa nel posizione di fuorigioco Lavellino resta in zona d'attacco quasi tutti in piedi la panchina bianco-verde lo spiovente di Loralmonte palla ancora in faro laterale Lavellino che insiste ma che però fatica a rendersi pericolosa ha costruito poco la formazione di Rocco nel corso di questa ripresa calcio di punizione per la formazione di Terni che sta conservando la rete di vantaggio sugli avversari venticinquesimo Noralmonte messa laterale ancora per gli ospiti il tempo passa Alessio Di Bari la conclusione smorzata ancora pericoloso il capitano delle fere ora Laronica il dribbling di Laronica chiede topo a se stesso Sagna Di Giorgio in faro laterale Sagna Anticipato Stranese Alessio Di Bari non lancia nessuno Pizzella riparte Laverino a testa bassa vediamo la squadra da Biancoverde non riesce però a costruire azioni pericolose Maternana si sta difendendo con ordine ora Ferraro vediamo se accende la luce ancora Ferraro porta palla Ferraro è un po' egoista serve comunque Stranese Ferraro va giù tutto regolare per il direttore di gara Noralmonte il tocco da dietro di Stranese poi Pastina ancora Pastina avanza il numero tre il cross la sfera in aria palla respinta ha l'impressione anche di essere un po' stanca la squadra velinese la bella iniziativa di Caputo Ferraro era nel passaggio ancora Avellino Caputo non riesce ad avanzare il numero a tredici Loralmonte lancia la palla ad Alessio Di Bari che temporeggia attende soccorsi però non sale la Ternana non viene assistito a dovere ora c'è il fallo di Pastina ai danni di Alessio Di Bari le scuse di Pastina l'indichizzo dell'avversario che resta a tapeto ci sarà calcio di punizione per la Ternana Ternana che si è preparato un altro cambio è arrivato all'ora di Mario Di Patrizzi ma è numero 20 ha già smesso la casacca calcio di punizione per la squadra ospite che ricordiamo conduce per due reti a uno ancora a terra Alessio di Bari c'è ancora qualche protesta all'indichizzo dell'arbitro rischiano l'ammunizione i cacciatori bianco-verdi 29esimo poco più di 10 minuti al termine del match si è rialzato Alessio di Bari sarà local monte a battere il calcio di punizione in area ternana in area vellinese non c'è nessun calciatore è pronto Noral monte che però lascia l'incompensa di un compagno e con la battura del calcio di punizione si lotta palla allontanata il velo di ferraro ad innescare il numero 11 stranese inseguito da prudenzi rimessa per l'avellino viene fermato il numero 18 carofalo ma l'avellino riparte ancora carofalo ferraro non riesce ad andare alla conclusione si sono chiuse le maglie rosso-verdi fermato Alessio Di Bari Petrini il dribbling del numero 4 Ternano appoggio sulla sinistra per Alessio Di Bari autore di una doppietta quest'oggi e ne è spinto il capitano Ternano calcio di punizione per gli Umbri 10 minuti al quarantesimo chiede il cambio il numero 10 Ternano inequimocabile il gesto all'indirizzo della sua panchina Mercuri va giù Logalmonte altro calcio di punizione per i Ternani sempre Mercuri sul punto di battuta Alessio Di Bari per il momento resta in campo ha chiesto il cambio il capitano Ternano si allontana dal punto di battuta Logalmonte lo scambio ravvicinato tra Mercuri e Alessio Di Bari c'è rimessa dal fondo per l'Avellino che può ripartire cambio per l'Avellino fuori Farinelli il capitano dentro il numero 20 Sabatino il capitano diventa ora Strianese si può riprendere a giocare trentaduesimo al nostro cronometro Avellino 1 Ternana 2 lancio di Pastina Tommaso Di Bari contrasto di Sabatino su Tommaso Di Bari di testa Svetta Garofalo Pastina lancio di Pastina ma se si contrastano i calciatori bianco-verdi occhio all'inserimento del numero 20 Sabatino il cross di Sabatino c'è una deviazione calcio d'angolo per la formazione di Rocco che va all'assalto degli avversari che va a caccia del nuovo pareggio cambio per la Ternana abbandona la contesa Alessio Di Bari autore di una doppietta i suoi detti stanno regalando il successo alla Ternana ha anche fallito un calcio di rigore si allontana il capitano Ternano esce anche Mercuri per la Ternana in campo intanto è entrato Alessandro Di Patrizzi per la Ternana esce Mercuri ecco la battuta del corner nugolo di calcio trovinaria intervento del signor Pascarella redarguire duellanti ecco la battuta del calcio piazzato traiettoria bassa ci sarà ancora calcio d'angolo i due Di Patrizzi della Ternana in campo Alessandro con il 19 e Mario con il 20 35esimo 5 minuti e poco più al termine dell'incontro la palla attraversa tutta l'area di rigore ha provato a svettare caso ma si è reso conto che l'impatto con il pallone sarebbe stato impossibile rimessa laterale per gli ospiti che possono tirare un sospiro di solevo ma ancora Avellino Ferraro occhio a movimento dell'attaccante laudice Passina palla sul fondo Sagna Caputo ancora Caputo con le mani per l'Avellino Caputo Garofalo lotta Garofalo calcio di punizione per gli Irpini chiedono un fallo di mano quelli della Ternana calcio di punizione per l'Avellino 36esimo Passina abbattere il calcio di punizione abbattuta di Passina palla in aria viene sul pallone Passina il controllo non è granché Petrini può rimettere il faro laterale gesto di stizza di Passina ammonito per proteste il numero 3 bianco-verde le proteste scatoliscono dal fatto che il direttore di gara abbia assegnato la rimessa laterale alla Ternana 37esimo al nostro cronometro ecco la rimessa con le mani la respina di testa di Sagna il lancio di Ferraro l'uscita di Pezza Nera ecco il rinvio del portiere Ternano lo spiovente Caputo Loralmonte ancora Loralmonte attenta la difesa bianco-verde ecco l'Avellino il palleggio Ternano Aronica Ferraro Loralmonte lo ferma e dappertutto Loralmonte perde palla però siamo all'inizio dell'aria ancora Ferraro calcio d'angolo per Lavellino trentanovesimo manca un minuto alla fine del tempo regolamentare poi vedremo l'entità del recupero assegnato da Pascarella ecco la battuta del corner palla in aria il colpo di testa di Strianese la parata di Pezza Nera ha bloccato il pallone il portiere della Ternana sull'ennesimo tentativo di testa di Strianese che conferma la sua abilità sulle palle alte attento però il portiere Ternano nel bloccare il pallone a negargli la gioia del gol quarantesimo è scaduto al nostro cronometro il tempo regolamentare c'è da disputare solo il recupero Loro al monte mantiene il possesso del pallone pasticcia caputo Ternana resta in avanti Avelino non riparte c'è fallo di Roro al monte sul numero 14 caso potrebbe essere l'ultimissima opportunità della squadra di Dario Rocco che invita i suoi ad avanzare 4 minuti concessi dal direttore di gara ma del resto quando ci sono così tante sostituzioni è inevitabile che l'extra time diventi corposo prova lo scatto Mario Di Patrizzi premessa laterale per la Ternana lo scatto di Sagna sul numero 20 Ternano che rispetto a lui è più fresco altra interruzione altro giro altra sostituzione esce il numero 4 Petrini per la Ternana al suo posto il numero 17 Francesconi rimessa per i Ternani svirgola Mario Di Patrizzi è un assist volontario per Loral Monte che però non riesce ad addomesticare la sfera tempo scorre l'Avelino deve muoversi se vuole evitare il K.O. interno va giù il numero 20 Sabatino un'occhiata al direttore di gara era quasi riuscito a liberarsi dalla morsa dell'avversario Sabatino e è andato giù il direttore di gara sorvolato sull'azione Garofalo l'uscita di Pezza Nera e qui potrebbero essersi esaurite le ultime chance dell'Avelino di pervenire al pareggio il rilancio di Pezza Nera Mario Di Patrizzi appoggio per Tommaso Di Bari insiste l'Avelino rimessa laterale per i campani Sagna rilancio palla sulla tre quarti Garofalo Pastina Caso ancora Avellino lancio in aria Strianese prova il palleggio la Trenana lontana del pallone Vanessa Biancoverde l'ultimo disparato assalto dell'Avellino Di Giorgio in contropiede Logalmonte è libero Di Mei Logalmonte entra in aria affrontato da Pastina è chiaro l'interesse del calciatore di colore a mantenere il possesso del pallone e a tenere lontano d'Avellino guadagni anche la rimessa laterale 44esimo Francesconi la Trenana resta lì dove vuole il triplice fischio del direttore di gara a decretare la vittoria della Trenana sul campo dell'Avellino 2 a 1 risultato finale per gli Umbri Lereti nel primo tempo vantaggio Ternano con Alessio Di Bari all'undicesimo al diciottesimo il pareggio dell'Avellino con Laronica nel secondo tempo all'undicesimo nuovo e definitivo vantaggio Umbro sempre con Alessio Di Bari per il 2 a 1 Ternano nel corso del primo tempo Alessio Di Bari sull'1 a 0 per la sua squadra ha fallito un calcio di rigore lasciandosi respingere la conclusione da Pizzella dall'impianto sportivo comunale di Prattocassare che è tutto il mascolese al commento Alfonso Riannone alle telecamere a risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV grazie a tutti Grazie a tutti.